Buongiorno e benvenuti in questo approfondimento della serie From Python Import More, in cui vedremo alcune librerie e alcuni nuovi argomenti che sono al di là del contenuto del corso, ma che possono incuriosirci e possono magari anche aiutarci nel proseguio del nostro studio e della nostra vita lavorativa. Oggi parliamo di una libreria che ci permette di gestire un pochino il calcolo simbolico e quindi attraverso Python fare delle elaborazioni su delle espressioni e funzioni matematiche. Diciamolo sottovoce, ci permette di fare il compito di analisi matematica, forse almeno in parte, o aiutarci a controllare gli esercizi che facciamo nel corso di analisi. Di che cosa si tratta? Si tratta di una libreria Python che si chiama SimPy, scritto in modo strano con la Y di Symbolic e Py di Python, che ci permette di gestire e risolvere delle espressioni algebriche, fare limiti, fare integrali, fare derivate, ma non in modo numerico, bensì in modo simbolico. Cosa voglio dire? Alla fine molte librerie sono in grado di fare i calcoli in modo numerico, per cui avevamo anche fatto come esercizio quello della risoluzione di una funzione con il metodo di bisezione, in cui lavoravamo con dei numeri sostituiti alle funzioni. Mentre invece le elaborazioni, quindi normalmente si lavora appunto con i valori numerici che queste funzioni assumono. Mentre invece questa libreria lavora in modo simbolico, quindi lavora proprio con le espressioni e le manipola e le trasforma così come faremo noi, anzi, forse meglio perché in realtà conosce più regole e più meccanismi. Proviamo a vedere come funziona. Questa è la definizione che SimPy dà di se stessa. Questa libreria dice che è una libreria per la matematica di tipo simbolico. Permette di essere, o per esempio mira ad essere, un sistema di computer algebra, quindi elaborazione, manipolazione di espressioni algebriche direttamente a calcolatore. E però mantenendo il codice, il codice che scriviamo noi, il più possibile semplice in modo che sia anche facile da utilizzare. È una libreria totalmente scritta in Python. Le informazioni su questa libreria SimPy le trovate su questo sito, simpy.org, dove c'è la presentazione della libreria e poi in realtà c'è il sito gemello che è il docs.simpy.org, dove c'è la documentazione vera e propria. Io le ho aperte in un browser, solo per guardarle insieme, quindi in questo simpy c'è questa pagina principale e poi c'è questa pagina di features che ci dice quali sono le funzionalità che questa libreria ha. In particolare, ricordiamoci che calculus significa la parte di analisi di funzioni che voi fate nel corso di analisi matematica. Quindi limite, derivate, integrate, serie di Taylor e cose simili. La documentazione dettagliata la trovate su quest'altro sito di documentation, dove in particolare c'è la parte di tutorial che ci dà un pochino, seguiremo alcune parti di questo tutorial, che ci dà qualche esempio pratico di come si usa questa libreria. Ma poi per utilizzarla in realtà funziona in modo molto semplice, funziona in modo molto semplice basandosi su un concetto, vado a prendere la presentazione qua, di simboli. Quindi di fatto noi possiamo creare un qualunque programma python che importi il modulo simpy, come installare il modulo l'abbiamo già visto all'interno di PyCharm, e una volta importata questa libreria abbiamo accesso a tutta una serie di funzioni in cui io oggi vi racconto le principali, ma poi andandovi a spulciare la documentazione, i tutorial, gli esempi, potete poi anche sbizzarrirvi direttamente su quello che vi interessa di più fare. Il concetto base dietro a questa libreria è quello di simbolo, che è simbolizzato, siamo così, riassunto da questa istruzione che vediamo qua. Cioè noi dobbiamo dire a Python che ci sono certe variabili che non verranno utilizzate come variabili python, cioè come riferimenti a certi valori numerici di tipo intero, di tipo floating point, di tipo stringa, come facciamo con il resto della programmazione. No, dovremmo dire che questa variabile è una variabile libera, una variabile matematica in un certo senso, che non deve assumere un valore numerico specifico, ma deve essere genericamente rappresentata da quel simbolo. Questo lo usiamo con una funzione che si chiama symbols, che prende come parametro una stringa che indica la rappresentazione di quel simbolo e restituisce una variabile, in realtà restituisce un oggetto, ma su questo dettaglio è meglio che non entriamo, che noi possiamo salvare in una variabile x e questa variabile da questo momento in avanti sarà legata all'entità matematica rappresentata dal simbolo x. Questo si può fare anche con più variabili, per risparmiare istruzioni possiamo indicare più simboli separati da spazio all'interno di un'unica stringa e questo li assegniamo, gli oggetti simbolici così costruiti li assegniamo alle variabili abc sotto forma di tupla, quindi questa è la tipica assegnazione a tupla in cui assegno in un botto solo più variabili. Questo cosa vuol dire? Che da questo momento in avanti, in questo programma, x, a, b e c sono delle variabili simboliche e quindi ogni volta che le uso costruirò delle espressioni simboliche. Come facciamo a cominciare a vedere? Allora, costruiamo insieme un programmino che possa provare a sfruttare queste funzionalità. Allora, io qui avevo già fatto una prova, mettiamo che from simpy import symbols import, eccolo qua, symbols. Quindi, io sto creando un simbolo x, simbolo che posso poi anche stampare se voglio. Allora, la variabile x da questo momento in avanti diventa una variabile simbolica. Infatti, quando stampo la x, vedete che ho eseguito il programma qua sotto, non mi stampa un numero, mi stampa x stessa, cioè mi stampa di fatto il simbolo che ho definito qua. Noi, per comodità, chiameremo la variabile con lo stesso nome con cui si chiama il simbolo. In realtà, il simbolo qua tra virgolette è la rappresentazione esterna, quindi ciò che verrà stampato, come verrà visualizzata questa variabile, questo invece è il nome interno della variabile che il programma dovrà usare. Ma non ci conviene fare confusione, possiamo semplicemente, diciamo così, chiamarle sempre con lo stesso nome, per nostra comodità e anche per convenzione. Quindi questo print strano stampa la variabile x che al momento non è definita come una variabile matematica, si chiama x. Cosa ci faccio con questa variabile? Beh, potrei costruire delle espressioni, così, ad esempio, potrei usare la x per calcolare, per definire un'espressione che usa x per costruire un'espressione più complessa. Io, ad esempio, qua ho provato a scrivere delle espressioni matematiche che usano delle variabili simboliche che ho appena definito. Quindi proviamo a farlo direttamente nel codice. Definiamo anche i simboli abc, abc uguale symbols di a spazio b spazio c. Quindi in questo caso abc, anche qui sono altri simboli, sono altre variabili indipendenti separati dalla x. Ciascuna variabile chiaramente avrà la sua vita. Quindi se io volessi definire, ad esempio, il discriminante delta di un'equazione di secondo grado, supponendo che abc siano i coefficienti di un'equazione di secondo grado, potrò usare la solita forma, b al quadrato meno 4c. Quindi b alla seconda meno 4 per a per c. Che cosa ho fatto? Sto facendo un'espressione, sto facendo un calcolo, che usa non delle variabili numeriche ma delle variabili simboliche. Questo fa sì che quando io cerco di stampare, non ho mai dato un valore numerico né ad a, né a b, né a c. Ho solo detto, sono delle variabili simboliche. E infatti quando stampo questo delta, verrà stampata l'espressione matematica corrispondente. Adesso lui me l'ha scritta in un modo diverso, perché l'ha normalizzato secondo le potenze di a, perché così ha deciso lui, ma non cambia la significato. Questo ci fa capire che in realtà lui ha capito l'espressione matematica, l'ha riscritta in una forma leggermente diversa, ma ha capito l'espressione matematica, non è semplicemente una stringa che viene presa e ricopiata. Questa è un'espressione che io posso portare avanti e poi della quale potrò fare poi dell'elaborazione, dei calcoli, ciò che voglio. E quindi, ad esempio, se io avessi sempre la mia classica equazione di secondo grado, se questo è il discriminante, potrei dire che la soluzione 1 di questa equazione di secondo grado, che cos'è? Sarà la formula con la dice x più o meno, scusate, meno b più o meno radice di delta fratto 2a, no? E allora scriviamola, meno b fratto, scusate, meno b più o meno, quindi la soluzione 1 è quella col più, ad esempio, sqrt di delta e il tutto fratto 2a, quindi il tutto, lo metto da parentesi, fratto 2 per a. Adesso, ok, questo sqrt che cos'è? Beh, chiaramente il simbolo di radice quadrata. Ciò che stiamo facendo è di usare delle operazioni che noi conoscevamo in Python e sapevamo che lavoravano tra i numeri, quindi la moltiplicazione, la sottrazione, l'elevamento potenza, la divisione, eccetera, li sto usando con delle cose che non sono, dei numeri, ma sono dei simboli, delle variabili simboliche. La libreria SimPy fa questo lavoro di ridefinire per noi il significato di tutti gli operatori aritmetici in modo che funzionino anche con i simboli. Per quanto riguarda le funzioni matematiche, dobbiamo però fare attenzione che la funzione sqrt che noi conosciamo della libreria mat, della libreria matematica, in realtà lavora solo con i numeri, quindi se io voglio fare una rice quadrata dovrò usare la rice quadrata che però è presa, quando vado a vedere che la voglio importare, non dalla libreria matematica ma dalla libreria simbolica. Quindi questa sqrt che sto scrivendo non è la radice quadrata normale che mi calcola la radice quadrata di un numero, ma è la radice quadrata che è in grado di conoscere simbolicamente, rappresentare simbolicamente l'operazione di una radice quadrata. Quindi non calcola la radice 2, ma si ricorda che questa è una radice. Vediamo al soluzione 1 che cosa ha tirato fuori. Quindi ho importato sqrt e dobbiamo ricordarci di farlo con tutte le funzioni, se no cos'è, tutte le funzioni che useremo le importeremo da simpy e non più da mat, perché noi vogliamo che lavorino sui simboli, non sui numeri. Ecco, in questo caso, se io stampo la soluzione 1, sotto ha stampato questa espressione dove non c'è più scritto delta, ma è stato sostituito il valore di delta dentro l'espressione stessa. E quindi vedete che lui è già capace a fare sostituzioni di variabili. Perché l'ha sostituito? Perché delta non è un simbolo, ma un'espressione. E quindi quando lui stampa un'espressione cerca di scriverla basandosi sui simboli primitivi, quelli che abbiamo definito proprio come variabili symbols. E quindi fa le sostituzioni che devono essere fatte e mi costruisce l'espressione complessiva. Tra l'altro, solo per inciso, esiste anche una funzione che si chiama pprint, che sta per prettyprint, stampa in modo carino, per cui se io provassi a fare il prettyprint di soluzione 1, anziché una print normale, lui me la stamperebbe cercando di disegnarla con la notazione algebrica. Dico cercando perché chiaramente dentro un display a caratteri fa quello che può. E quindi ha capito l'espressione, ha capito la sostituzione del delta sotto radice e è in grado di visualizzarmi e capirmi questa funzione. Questo è il passo 0. Cioè io definisco delle variabili simboliche, definisco delle espressioni che costruisco usando queste variabili simboliche e la simpy, la libreria, è in grado di manipolare senza mai dovermi chiedere di inserire un numero, senza mai dovermi obbligare a definire qual è il valore di a, qual è il valore di b, qual è il valore di c e così via. Cosa me ne faccio di questa capacità di manipolare espressioni? Il passo dopo delle espressioni è quello di scrivere un'equazione. Quindi io posso definire un'equazione, ad esempio con una classe tecnicamente che si chiama EQ, equation, sempre della libreria simpy, nella quale indico il primo membro e il secondo membro dell'equazione stessa. Il primo e il secondo membro di un'equazione sono a loro volta delle espressioni, quindi usate, costruite usando le variabili simbolo che abbiamo definito prima. Quindi in questo caso qui ho scritto l'equazione del tipo x al quadrato più 1, primo membro, uguale x al cubo meno 3, la prima che è venuta in mente, ho messo dei numeri più o meno a caso. Questa è un'equazione e la possiamo provare a scriverla direttamente nel nostro codice, quindi l'equazione la ottengo con la funzione equation che devo ovviamente importare da simpy e ha due parametri che risparlientano appunto il primo membro e il secondo membro. Il primo membro potrebbe essere, abbiamo detto, x alla seconda più 1, il secondo membro potrebbe essere ad esempio x al cubo meno 3. meno 3. E quindi se cerco di stampare questa equazione, non fa nulla di speciale, semplicemente mi stampa questa uguaglianza. Dicendo questa, attenzione non confondiamoci, mettiamo una riga vuota così di separazione perché almeno si capisce perché altrimenti la radice quadrata e l'equazione successiva si sono un po' troppo appiccicate. x al quadrato più 1 uguale x al cubo meno 3. Quindi ho costruito un'equazione, questo segno di uguaglianza è stato inserito dall'equazione, dalla funzione equation perché lega il primo membro e il secondo membro. Ma io cosa me ne faccio in un'equazione? Beh, la posso risolvere. Quindi le soluzioni che in realtà noi non sappiamo fare perché questa è un'equazione di terzo grado, le possiamo ottenere chiamando il metodo solve sull'equazione data. Quindi equation contiene questa equazione, io chiedo alla libreria, per favore risolvimi questa equazione. Lo importo chiaramente e quindi posso stampare le soluzioni. Vediamo quali sono le soluzioni di queste equazioni di secondo grado, non le conosciamo, noi non conosciamo la formula risolutiva ma lui sì e mi dice qual è la soluzione, sono elencate qua sotto, ingrandiamo un po'. Sono tre soluzioni, è lecito aspettarsi da un'equazione di terzo grado, una reale che vale più 2 e due espressioni complesse, due complesse coniugate, vedete che c'è una I che è un'unità immaginaria, quindi meno un mezzo meno radice 7 mezzi I e meno un mezzo più radice 7 mezzi I. Quindi queste sono le tre soluzioni in campo complesso, i numeri complessi di questa equazione di secondo grado, di cui la prima è casualmente anche un numero reale, anche una soluzione reale. quindi se noi forniamo delle equazioni in pasto a SimPy col metodo, con la funzione solve, lui se è in grado di risolvere chiaramente ci estrae la soluzione. Soluzione che in questo caso è di tipo numerico, ma se anziché più 1 più 3 ci fosse più A, ad esempio, vediamo un attimo cosa gli facciamo fare. Questo lavoro diventa un'equazione parametrica nel parametro A e in questo caso, poveretto, non è in grado di risolvere, quindi mi dice solamente mi esplicita A rispetto, ma io la voglio risolvere rispetto X, scusate, non rispetto A, me la risolte rispetto ad A, facile, sono capace anch'io risolvere rispetto ad A, risolvere rispetto a X è capace? Eh sì, è capace, a patto che io riesca a decodificare questa soluzione. Quindi qui mi ha detto che la soluzione di questa equazione di terzo grado parametrica dove c'è un parametro A è fatta di soluzioni che sono qua, vedete che sono delle espressioni complicate con delle radici eccetera, dove compare anche il simbolo A. Quindi in questo caso mi ha risolto in modo parametrico, quindi delle soluzioni parametriche che dipendono dal parametro A, un'equazione che ovviamente al suo interno aveva il parametro stesso, senza forzare un valore del parametro. È chiaro che è lunga due pagine questa espressione qua, scritta in questo modo, se noi la scrivessimo normale, senza il pretty print, ma con un print normale, non occuperebbe molto spazio, ma ci dà idea della complessità di questa cosa, ma soprattutto del fatto che appunto il parametro è stato tenuto conto, la risolta nel caso generale. Quindi questa è la potenza, adesso rimettiamo uno, poverini per non farci troppo del male, però la potenza è della risoluzione simbolica dell'equazione. Io ti do un'equazione, se una questione ha dei termini noti, li usa, se l'equazione ha dei parametri, ne tiene conto e cerca di risolverli in questo modo. Ma poi possiamo andare avanti, questa è algebra, poi se andate a vedere la documentazione vi spiega tutti i meccanismi che ci sono a livello di computer algebra per gestire i polinomi, quindi raccogliere, moltiplicarli, dividerli, raccogliere il fattore comune, estrarre la decomposizione in polinomi e cose di questo genere. Ma a noi interessa forse di più andare, e la risoluzione di equazioni, lui è in grado di conoscere molti tipi di equazioni, questa è un'equazione polinomiale di terzo grado, ma ci sono anche equazioni più complesse che lui è in grado di risolvere, sempre con il metodo solve, oppure con delle specializzazioni del metodo solve, ma come vi dicevo, se siete curiosi potete andare a vedere. Invece è più interessante passare per noi all'analisi matematica e quindi definire delle funzioni reali di variabile reale e vedere che cosa facciamo con queste funzioni. Allora, definire una funzione non è diverso dalla definizione di un'espressione, semplicemente la stiamo pensando in modo diverso, questa funzione f, il famosissimo seno x su x, o la funzione g, esempio e elevato a radice di x per dirne una. Ecco, devo solo fare attenzione che il seno, l'esponenziale e la radice siano importate da sin pi e non siano importate da mat, perché altrimenti vi darebbe un errore, essenzialmente, se cerco di fare la radice quadrata di un simbol anziché di un numero reale, ovviamente. Ok, una volta che abbiamo queste, quindi possiamo estendere il nostro programmino provando a definire una funzione, abbiamo detto f uguale seno x su x, dove seno ovviamente lo vado a importare da seno, magari anche l'esponenziale, dalla libreria sin pi, questa è la parte importante. Quindi se f uguale seno x su x, g uguale, abbiamo detto, esponenziale di radice di x, ma poi potete prendere la funzione che più vi piace dai vostri esercizi che vi danno i colleghi di analisi. E quindi printf, prettyprintg, e ci fa vedere che, vabbè, qui abbiamo seno x su x e elevato a radice x. Prettyprint, per modo di dire, non è che sia proprio molto pretty questa cosa, perché lui cerca di usare questi simboli, ma questa è, però sul terminale viene un po' come può, ecco, l'aspetto della resa grafica non è il massimo. Attenzione che qua sembra che si confondano, quindi mettiamoci magari anche qua una riga di trattini in mezzo, così, ecco, separiamo bene la prima, la funzione f dalla funzione g. Ok, una volta che ho una funzione, l'ho definita, che cosa posso farci di questa funzione? Eh, le cose che stiamo imparando. La prima cosa, posso farci dei limiti. Allora, la funzione simpi ha un metodo che si chiama limit, una funzione che si chiama limit, che si può chiamare, passando a, riceve tre, richiede, no, di conoscere tre parametri, la funzione di cui voglio conoscere il limite, la variabile rispetto alla quale voglio calcolare il limite, quindi per x che tende a, e il valore a cui tende la variabile, la variabile indipendente della funzione. Quindi in questo caso il limite della funzione f per x che tende a zero. Oppure lo possiamo fare per x che tende più infinito. Ecco, come si scrive infinito? Ovviamente il Python, il numero infinito non ce l'ha, ma simpi ha un simbolo speciale che rappresenta l'infinito che in realtà è fatto da o o, sono due o minuscole queste. Se le immaginate un po' più attaccate vi sembra il simbolo dell'infinito. E quindi in questo caso calcolo il limite di f di x, di f, per x che tende più infinito. Vediamo un po' quanto valgono questi limiti. Quindi possiamo scrivere che il limite 1 è il limite di f quando x tende a zero. Il famoso limite di sen x su x è quando x tende a zero. Ovviamente devo importare il limite lassù in alto. Quanto è il limite di f di x quando x tende a zero? Posso dire che il limite 1 sarà questo e magari faccio anche il limite 2 quando x tende a infinito. quindi il limite 2 è il limite sempre di f di x quando x tende a più infinito. O o è il simbolo dell'infinito che è una variabile come le altre, definita in simpi, ha solo un nome un po' strano, o o. Allora a questo punto dovrebbe stamparmi il limite di sen x su x, f era sen x su x. Per x che tende a zero, che tutti sanno la forma indeterminata, diciamo così, che è più studiata, fa uno. E per il rischio che tende più infinito, sen x su x, chiaramente tende a zero. Vediamo se è vero. sì, il primo print mi dà uno e il secondo print mi dà zero. Come volevasi dimostrare o come sapevamo già in questo caso. Ma in questo caso è facile, perché sappiamo già quanto vale. È un po' più interessante quando magari la funzione ha un limite di cui non siamo sicuri. e anche dove ci sono delle singolarità, delle forme determinate tipo zero su zero, come in questo caso, ovviamente la libreria simbolica riconosce queste forme determinate e le risolve al meglio. Non è in grado di risolvere tutti i limiti possibili, ma la maggior parte di quelli che impariamo con i metri matematici normali, sì, è in grado di risolverli. Poi ovviamente ci sono sicuramente dei casi in cui neanche la libreria non riesce a risolvere. Ma dopo i limiti abbiamo le derivate. Ecco, per le derivate c'è una funzione che si chiama diff, che prende una funzione, la variabile rispetto a cui derivare, quindi derivata di f rispetto di x su dx, e mi dà la funzione f' e quindi mi scrive qual è l'espressione algebrica funzionale della derivata della funzione f. Quindi la derivata di sen x su x quanto vale, la derivata di e elevato la radice di x è quanto vale rispetto a x ovviamente. Quindi basta importare in più la funzione diff e quindi avendo importato diff là in alto posso calcolare finalmente le derivate e quindi posso calcolare l'f' che abbiamo f' per la derivata di f sarà la derivata di f rispetto a x. E posso stampare f1 oppure faccio un print di f1, adesso vediamo come viene fuori, se viene meglio stampata in linea oppure stampata, cercata, diciamo così, in modo disegnato. Quindi la derivata di sen x su x è cos x su x meno sen x fratto x alla seconda. Mi fido della libreria, se non vi fidate fatevi i conti a mano. Ovviamente la rappresentazione che ho cercato di disegnare era di questo tipo, che forse è anche un po' meno leggibile rispetto a questa espressione. Quindi il print va bene perché finché le espressioni sono semplici fa anche un po' scena, però non è detto che sia la forma migliore. E così possiamo derivare g, g1, la derivata di g che fa, era e elevato a radice di x, è un po' più complicata, diventa e elevato a radice di x di nuovo, il trucchetto che ci fa l'esponenziale che non ce lo togliamo di mezzo, diviso 2 alla 2 radice di x, quindi un mezzo fratto radice di x e questo ho applicato semplicemente la formula di derivata composta. Ovviamente poi posso andare avanti, io potrei tranquillamente fare la mia derivata seconda di f che non è altro che la derivata di f1 rispetto a x nuovamente e quindi la derivata seconda sarà questa cosa qui, vediamo un attimo quanto vale, è questa espressione qua, meno sen x su x, meno 2 cos x su x alla seconda, più 2 sen x su x alla terza, se qualcuno vuole può fare i conti e verificarlo. E questa è l'espressione che ci viene data già in qualche modo semplificata. Di questa poi potremmo calcolare anche i limiti, gli zeri, vogliamo sapere i punti notevoli di questa funzione, allora quando è che la derivata prima vale 0? E noi possiamo chiedere i punti di massimo e minimo sono i punti in cui risolviamo l'equazione in cui f1 è uguale a 0 e quindi la derivata prima è uguale a 0. Vediamo un po' cosa mi dice print soluzioni, diciamo quelli maximi minimi, dissen x su x, dovrebbero essere maximi, vediamo cosa mi dice, se ce la fa a farlo. Sto provando sul momento. Questa qua non ce la fa a farlo. Qui dice che non ci sono algoritmi che siano in grado di risolvere questa equazione, a volte succede, quando vediamo delle equazioni di cui anche noi non sapremmo risolvere in modo diciamo così analitico questa equazione e quindi lui a un certo punto mi dice guarda non ce la faccio, è troppo complicata per me, perché dovrei, sono arrivato a semplificare arrivare a questa ma non ce la faccio, ma se io facessi ad esempio, cambiassi la funzione non fosse sen x su x ma fosse sen x, che non so, per x, dovrebbe essere più facile da risolvere un'altra soluzione, chiaramente in questo caso mi dice che il massimo e il minimo sono 0 e pi greco, cioè gli zeri della derivata prima sono sia in 0 che in pi greco, ovviamente non è sen x su x ma è sen x per x. E così via. Quindi in alcuni casi dove si può risolvere l'espressione di solito diciamo che lui riesce a risolvere, in altri casi come avete visto ci ha pensato un po' di più, ha provato vari algoritmi e poi non è riuscito a risolvere. derivata prima, messa uguale a 0, ci dà i punti estremi. E poi ovviamente dopo le derivate cosa abbiamo? Abbiamo gli integrali. Ad esempio, come si calcolano gli integrali? Si calcoleranno anche qua con una funzione del livello del sim pi che in questo caso si chiama semplicemente integrate. E anche qua l'integrale indefinito richiede il nome della funzione da integrare e il nome della variabile rispetto alla quale vogliamo integrare. Quindi l'integrale di f, l'integrale di g e vediamo un po' cosa ci salta fuori. Quindi possiamo prendere nel nostro programmino, come al solito, la funzione f grande, cioè la primitiva di f, uguale integra di f rispetto ad x. Qui ci facciamo mettere da lui l'import perché siamo pigri e così possiamo mettere g grande è l'integrale di g piccolo rispetto ad x. E quindi possiamo farci dire, ad esempio, qual è l'integrale di sen x su x e qual è l'integrale di e elevato a radice di x, g grande. Quindi le ultime due cose che stamperà saranno queste. Allora, l'integrale di sen x su x, che è la funzione f grande, non si può scrivere con le funzioni normali, trigonometriche e esponenziali, quindi ha usato una funzione speciale, esistono delle funzioni collegate speciali, in questo caso si chiama proprio seno integrale, per definizione l'integrale di sen x su x. Non si può esprimere, non si può espandere, è una funzione a se stante. Invece la primitiva, la funzione primitiva di e elevato a radice di x è questa cosa qua, 2 volte a radice di x per e alla radice di x meno 2 e alla radice di x. Cioè vi fate l'integrale a mano, dovreste arrivare allo stesso risultato. Questo per gli integrali indefiniti. Possiamo anche fare gli integrali definiti usando un modo diverso di chiamare sempre la funzione integrate. Noi prima avevamo chiamato la funzione integrate passando la funzione e la variabile, e quindi mi calcola l'integrale indefinito, invece io posso calcolare un integrale definito, ossia l'area sottesa da una curva, passando non solo la variabile ma una tupla che comprende tre parti, tre porzioni, tre elementi, la variabile, il punto di partenza del punto di arrivo dell'integrazione. Quindi in questo caso potrei integrare f che è il mio seno x su x per x che va da meno infinito e più infinito. Quindi tutto il nostro seno x su x lo integriamo l'area complessiva. Questo è anche un altro integrale notevole che studierete oppure possiamo integrare, che ne so, la funzione g, questo è più semplice, che ne so, è elevato a radice di x tra 0 e 1. Ovviamente noi abbiamo già la funzione primitiva, quindi basterebbe sostituire i valori, ma semplicemente ce lo possiamo far fare come integrale definito. Quindi se noi vogliamo scoprire quanto vale l'integrale, stampiamo un'altra riga di separazione, l'integrale definito di, quindi area sotto la funzione f, sarà l'integrale tf, integrate ma anche un'r, integra di f per x che va da meno infinito a più infinito. Integrate cosa ho scritto? Ho messo la r ma l'ho messo nel posto sbagliato. Ok. E quindi in questo caso mi stamperà che l'area uguale a area della funzione f, l'area sotto sen x su x dovrebbe, se non sbaglio, fare pi greco. Quindi tutto quel sen x su x, se io calcolo l'area sommando le parti positive e sottraendo le parti negative, da meno infinito a più infinito, dicono i matematici e dice anche questa libreria che quest'area, quest'integrale, è uguale a pi greco. Altre cose che possiamo fare, diciamo così sempre rimanendo nel campo dell'analisi matematica, ad esempio l'espansione in serie. L'espansione in serie di Taylor, quindi data una funzione, facendo le sue derivate successive, ti calcola un polinomio che approssima la funzione nell'intorno di un punto. Allora in questo caso c'è la funzione che si chiama serie, serie dis, che espande una funzione f rispetto a una sua variabile nell'intorno di un punto, nel punto zero. E poi l'ultimo parametro è l'ordine di espansione, quindi la espando creando un polinomio di ordine 3, di grado 4, di grado 5, di grado 6 e così via. E quindi mi dà l'espansione in serie di quella funzione, intorno ad esempio al punto zero o intorno al pi greco, ad esempio, dove sappiamo che c'è uno zero. Pi greco, di nuovo, abbiamo a fare attenzione che se ci serve pi greco non dobbiamo usare mat.py, ma simpy.py, perché rimanga simbolico e non venga convertito in numero e quindi essendo simbolico viene riconosciuto proprio come uno zero del seno e non un valore che lo approssima solamente, è un valore in questo caso esatto fino in fondo, esatto fino all'ultimo. Quindi possiamo provare a vedere quest'ultima possibilità, ultima di quelle che vi voglio raccontare oggi, poi chiaramente avete la libreria a disposizione, la potete esplorare e quindi possiamo avere, fammi la stampa di, ad esempio, pretty print di serie, l'espansione in serie, non metto una variabile intermedia, poi lo stampo direttamente il valore, solo per brevità, l'espansione in serie di f rispetto ad x nell'intorno dello zero fino al grado 6, ad esempio. Ovviamente l'espansione in serie la devo anche qui importare, la simpy e poi potrò stampare ancora magari l'espansione in serie sempre dell'espansione di f intorno a pi greco dove anche qua lo dovrò importare da, vado su, virgola pi e vediamo un po' cosa salta fuori, a di grado 6, ecco queste qua sono, dunque dove siamo arrivati, ah no scusate ho sbagliato perché questo non era, non era p la variabile ma x la variabile e p è il punto di espansione, l'intorno di espansione, infatti mi stampava la stessa variabile, la stessa funzione non capivo perché, perché la stavo spandendo rispetto a una costante e non rispetto a una variabile. Allora, questo mi dice che l'espansione di sen x su x rispetto x nell'intorno dello zero con un po' di grado 6 è 1 meno x alla seconda fratto 6 più x alla x alla quarta fratto 120 più o grande di x alla sesta, perché ho deciso di fermarmi a grado 6, se io volessi andare avanti e aumentassi il grado chiaramente lui mi aggiunge dei termini all'espansione, se io volessi andare avanti che ne sono fino al grado 10, poi chiaramente si allunga, l'espansione mi dirà che, eccola qua, x alla quarta sesti più x alla seconda sesti più x alla quarta 120 più x alla sesta su 5040, x all'ottava più 1 grande di x alla 10, che chiaramente comprende tutti i termini che sono stati riassuti. Ovviamente non vediamo potenze dispari perché la funzione sen x su x è una funzione pari. Se la espando nell'intorno dello 0, se la espando nell'intorno del pi greco mi darà un'espressione in cui un polinomio in cui, diciamo così, la variabile del polinomio è x meno pi greco e quindi x meno pi greco chiaramente quando x uguale pi greco vale 0 e quindi non avrò termine noto e quindi mi dà l'espansione, in questo caso fino al quinto grado, in questo caso non è una funzione simmetrica rispetto al punto pi greco, quindi ho sia i termini pari che i termini dispari e poi avrò un o grande di x meno pi greco alla sesta che mi riassume chiaramente tutti i termini che non avevo considerato prima, di cui mi sono affermato prima e mi dice attenzione che questo vale solamente questa espansione e un intorno di x che tende a pi greco. Quindi questi sono i vari argomenti che vengono un po' citati nel corso di analisi matematica e per fortuna esiste questa nostra libreria SimPy che attraverso questo calcolo simbolico ci può permettere di costruirci il nostro programmino per poter sperimentare, verificare, provare a fare i calcoli. Molti di voi magari sono abituati a usare ad esempio WolframAlpha che è uno strumento online, è un sito WolframAlpha.com, se non lo conoscete tu fatevi subito all'istante che già vi dà questo tipo di soluzioni, però possiamo anche costruirci in casa e usare queste elaborazioni sia per verificare esercizi che per eventualmente fare altri programmi che abbiano bisogno di calcolare le espressioni in modo simbolico, in modo esatto, in modo algebrico e non solamente in modo numerico. Con questo vi lascio, vi lascio anche esplorare la curiosità di andare a vedere quali sono le altre cose che si possono fare, gli altri esempi di questa libreria di calcolo simbolico. Arrivederci e al prossimo approfondimento.